Antonello Cerrato, tanto lavoro per la sanità di Montoro, tanti risultati raggiunti, ma ci sono anche altre situazioni da migliorare. Nei prossimi giorni incontrerete i vertici dell'ASL per discutere di cose in particolare? Sì, allora incontreremo i vertici dell'ASL, o meglio i nuovi vertici dell'ASL nella persona del dottor Ferrante, il nuovo direttore generale. Abbiamo concluso il rapporto di grande collaborazione che c'è stata con la dottoressa Morgante, che ci ha permesso di affrontare la fase Covid in maniera difficile, ma con grandi risultati per la nostra comunità. Come Presidente della Commissione Sanità abbiamo attivato tante iniziative importanti, per esempio il centro vaccinazioni a Montoro, così come i buoni ristoro per i cittadini e tante altre iniziative di grande solidarietà che hanno saputo portarci dei grandi risultati. Però poi con la dottoressa Morgante siamo riusciti a realizzare il centro antidiabetico, che oggi è uno dei pochi presenti in Irpinia, che dà delle risposte importanti ai cittadini sia per il diabete stesso, ma per le tante comorbilità legate al diabete. E dopo un inizio difficile ora funziona a pieno regime, così come abbiamo progettato la realizzazione della Casa della Salute, che deve essere un vanto per la nostra comunità e sarà realizzata entro dicembre 2023 nella frazione Preturo. Per me questi sono grandissimi risultati. Quello che manca oggi è ancora un rafforzamento di quello che è la forza lavoro del Presidio Sanitario, perché i servizi sono pienamente funzionanti, le visite specialistiche, le vaccinazioni stesse, la scelta irrevoca del medico e altri tipi di servizi presenti nel nostro Presidio, che ricordiamo fornisce e dà servizi sanitari alle comunità di Solofra, Montoro e Serino, ma nello stesso tempo ci vuole un rafforzamento a livello di personale infermieristico e personale amministrativo e ci stiamo lavorando. E non ultimo, direi il primo obiettivo, è quello della realizzazione e della spesa di quei fondi già stanziati ormai da più di due anni, di circa 800 mila euro per questo Presidio, che riguardano il riammodernamento e la messa in digitalizzazione dell'intera struttura. Noi ci puntiamo molto e l'incontro conferrante servirà proprio a mettere sul piatto un vero e proprio cronoprogramma per la realizzazione e il conseguimento di questi risultati.